Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Mariano. Oggi parliamo di nuovo di Microsoft Teams, un programma davvero completissimo per videoconferenze, videoriunioni, utilizzato moltissimo dalle università, dalle aziende, ma con gli ultimi aggiornamenti anche da tantissime persone che vogliono collaborare e che vogliono parlare l'uno con l'altro a distanza. Microsoft Teams si aggiorna ad una velocità davvero vertiginosa, se non hai visto gli altri miei video un po' più base su Microsoft Teams te li ricordo perché sono davvero molto utili. Oggi però parliamo di una nuova funzione o perlomeno di una funzione che già c'era ma ora completamente rivoluzionata che è la loro whiteboard, e cioè la loro lavagna su cui poter scrivere, questa volta collaborare con tanti altri e l'hanno resa molto interattiva e molto carina anche da vedere. Prima di partire ti voglio ricordare di iscriverti al mio canale perché davvero per te non costa nulla, per me è un grandissimo e enorme favore. Questi e tutti gli altri miei social, vienimi a trovare su Telegram, ti darò tantissime offerte a settimana. La prima cosa che ti faccio vedere è il loro sito, cioè guardate Microsoft Whiteboard. Ecco qui ci sono tutte le informazioni che ci servono o perlomeno quasi tutte, altrimenti io che sto a fare qui? Infatti te ne faccio vedere molte di più, iniziamo una volta che, guardate, io ho già fatto l'accesso in un team e ho già lanciato una riunione, vedi questo è il classico interfaccia di una nuova riunione, quando vado su share content, quindi per poter condividere i miei schermi o PowerPoint eccetera, c'è Microsoft Whiteboard, vedi collaborate on a Whiteboard, proprio per collaborare. Apre la mia nuova lavagna e da qui posso fare tantissime cose. Ad esempio, do you want to present or collaborate? No, voglio io presentare, oppure guarda come tutti quanti possono editare, va bene, tutti quanti possono editare. Chiunque è all'interno di quella riunione che sto facendo possono editare, perché è vista anche come molto orientata verso il brainstorming, il farsi venire in mente delle idee insieme, l'aggiungere dei pezzi alla lavagna insieme, non tanto per spiegare, anche, molto utile, io la uso per quello, ma anche per collaborare tra più persone in diverse parti, così, del mondo, diciamo. Qui la posso chiamare, gli do un nome, la chiamo YouTube, così poi la ritroviamo da altre parti e potrei già cominciare a scrivere. Come ritrovare la nostra Whiteboard da altre parti? Allora, ci sono diversi metodi, se avevo messo l'evento in calendario, posso ritrovare la Whiteboard anche sull'evento in calendario. Oppure, altro metodo molto interessante è quello di andare su www.whiteboard.office.com, e lo vedi qui in alto, e poi loggarti, cioè fare il login con il tuo account che avevi messo per avere le tue Whiteboard. Guardate come trovo immediatamente quella che abbiamo creato e che stiamo creando dall'altra parte, YouTube, qui posso eliminarla oppure editare il nome, io invece ci clicco perché voglio iniziare a scrivere da questo lato qui. E la guardiamo, qui sulla sinistra abbiamo tutte le cose che possiamo inserire, qui in alto invece abbiamo gli strumenti per la scrittura. Guardiamoli uno alla volta, ma io partirei dai modelli. Molto orientati, come ti dicevo, verso l'azienda, diciamo così, ad esempio brainstorming, guardate quante cose di brainstorming posso avere, oppure ricerca e progettazione, quindi l'affinity diagram, l'empathy map, feedback grid, insomma tante cose che posso mettere, addirittura anche dei giochi di ruolo che posso fare mentre magari c'è una riunione, oppure nei momenti di pausa delle riunioni e così via, oppure anche apprendimento, compara e contrasta e così via. Io invece voglio partire completamente da zero, guardate come se clicco su più mi torna a questa parte, posso inserire delle note. Le note le posso inserire, guardate, o in maniera così singola, oppure anche a gruppi. Ad esempio metto un gruppo di note, lo metto qui e possiamo scrivere già all'interno delle nostre note. Per scrivere basta cliccare su modifica testo, ci scrivo ciao, oppure qui posso cambiare il colore della nota, magari ecco lo posso ingrandire, rimpicciolire, mettere il colore della nota in un altro modo, scriverci e qualcun altro magari scrive ciao a te. Beh, diciamo questa whiteboard è molto triste, però potrei fare anche una cosa del genere. Posso dirgli di aggiungere una nota, quindi di metterne un'altra e guardate come ognuno di questi può essere anche preso o modificato. Infatti se ne metto uno qui, guarda come ho tutte le maniglie per ingrandire, per spostare i vari oggetti che ho, toglierli e tante tante cose. Poi anche primo piano, secondo piano, a seconda, se ad esempio guardate lo faccio vedere se ne inserisco due, posso metterne una, vedete quella in secondo piano, però potrei dirgli di metterlo in primo piano, quindi quella viene sopra eccetera. Posso inserire del testo, ad esempio qui posso mettere il titolo della riunione, magari rimuovo questa parte perché se non poi mi dà un pochino fastidio. Qui abbiamo poi le forme, posso inserire delle forme, ad esempio ecco un bel triangolo poi da poter editare successivamente. Qui posso scegliere il colore del bordo, guardate come sta modificando il bordo, questo invece è il colore di riempimento, oppure potrei metterlo completamente sfondato, quindi senza nessuno sfondo. C'è la possibilità anche di mettere delle frecce perché quando faccio ecco dei magari brainstorming o delle riunioni aziendali, le frecce sono una di quelle cose essenziali, questo ci porta a questo, se facciamo questo facciamo anche quello e così via. Ma una parte molto interessante è sulle riunioni, sulle reazioni, scusami. Le reazioni perché essendo orientato, diciamo così, alla collaborazione, io posso chiedere ad esempio, vi piace quella cosa che ho scritto in questo box e cioè la nostra azienda deve crescere, una cosa del genere. Posso richiedere una reazione e ecco guarda, magari far votare e dire sì, a me piace questa nota che hai messo oppure l'applauso e dire sì sì, a me piace davvero tantissimo o chiedere delle informazioni supplementari al fatto. Ma che vuol dire che la nostra azienda deve crescere? Penso che abbiamo detto tutto? Ah no, manca la parte delle immagini, cioè posso scegliere dalla mia, direttamente dal mio computer, una immagine da inserire. Vabbè, dai, questo lo sapevamo, modifica testo alternativo, qui posso scrivere uno o due frasi consigliate, ma veniamo alla parte superiore perché questa è migliorata davvero tanto. Questa è una penna e va bene, qui posso scrivere come voglio, posso anche decidere qual è il tratto, cioè più spesso, vedi come cambia lì sopra, più spesso, meno spesso, quale colore voglio utilizzare, ad esempio questo rainbow, vedete come è abbastanza carino. Ma questa è una cosa molto interessante perché guardate è la freccia, cioè quando io traccio, ad esempio sto tracciando in questo momento e traccio in questo modo, ora lascio il tasto sinistro del mouse e guarda come lui mi mette una freccia. Molto interessante proprio per il discorso che dicevamo prima e cioè tracciare delle frecce durante le riunioni in maniera molto semplice, senza poi stare a fare la finale delle frecce che a volte non viene mai molto bene. Guarda invece in questo modo, posso tracciarlo facilmente, posso scegliere anche la doppia freccia e quindi inserire una freccia con la freccia, ecco scusate la ripetizione, di qua e di là e così via. Qui ho ancora la penna con un diverso spessore, ad esempio un verde posso scrivere ancora in questo modo, la sottolineatura quindi il fatto di poter evidenziare alcune parti oppure cancellare e dunque cancellare alcuni pezzi che avevo messo con la penna chiaramente, eccoli qua. Mentre per cancellare le altre cose devo selezionarle e poi come avevamo visto prima cancellarle in questo modo qui. Se clicco in questo ultimo tasto posso selezionare alcune cose a mano, vedete ho solizionato solamente a questo punto la freccia e poi posso spostarla, cancellarla, cambiare di colore e fare tutte le cose che voglio. Prima di lasciarti ti debbo far vedere invece come condividerlo e quindi se vado qui su questo lato posso condividere il collegamento e cioè ad esempio mandare anche ad altre persone che non sono all'interno di Teams il collegamento affinché possano vedere la mia whiteboard. Gli copio il collegamento e poi il resto è fatto. Se vado qui sulle impostazioni posso esportare, dunque se ho creato una bella lavagna di appunti esportarla, chiaramente non quello schifo che ho fatto io adesso, ottimizzare le forme con l'input di penna significa che te lo faccio vedere e invece di dirlo, se faccio un triangolo a mano libera e poi lascio così, lui mi ottimizza il triangolo, quindi tenta di capire che io volevo fare un triangolo fatto bene. Altre partecipanti possono apportare le modifiche, questo lo avevamo messo prima, posso modificare lo sfondo, quindi ad esempio mettere degli sfondi particolari, ibrido ad esempio, mi piace, poi inviare un feedback eccetera eccetera, oppure addirittura avviare la presentazione di onboarding. Bene, direi che ti ho fatto vedere tutto o quasi tutto sulla nuova whiteboard di Microsoft Teams, molto molto utile. Come al solito scrivimi qui nei commenti se già tutte queste cose le sapevi, oppure se mi sono scordato qualcosa e c'è qualcosina o qualcosina di molto interessante sulla lavagna di Microsoft Teams. Se ti piace questo argomento continuiamo ancora con Teams, scrivimelo sempre qui nei commenti. Prima di lasciarti ti voglio ricordare di iscriverti al mio canale, di iscriverti a tutti gli altri miei social, in particolare su Telegram ti darò tantissime offerte a settimana. Ora non mi resta che augurarti un buonissimo lavoro, un ottimo studio, una vita splendida e ti saluto con il mio. Ciao ciao, grazie della pazienza, alla prossima. Sai cosa siamo? Siamo l'assunto di storie sui social, a portata di smartphone, per conoscenti, parenti ed amici che non conosciamo e non salutiamo. Sai cosa penso? Siamo le menti pensanti fiaccate da show da richiamo, dove votiamo col tonico pollice e poi ci arrabbiamo.